Qual è il miglior metodo e quello più efficace per introdurre il tuo cane al kennel o al recintino? Beh, in questo video ti spiegherò come fare. Benvenuti sul canale di Naturalmente Cani, io sono Silvia e mi occupo di educazione cinofila. Creo contenuti come questo ogni settimana per educare sempre più persone al fantastico mondo dei nostri amici a quattro zampi. Prima di parlare di come dovremmo introdurre i nostri cani al kennel o al recintino, lasciatemi spiegare perché dovreste farlo. E innanzitutto, proprio grazie all'associazione positiva che questo metodo efficace è in grado di creare in breve tempo, associeremo il recintino a qualcosa che il cane conosce molto bene in natura, la tana. Ora vi prego di fare un salto d'immaginazione e guardare il mondo dal punto di vista del vostro amico a quattro zampi. Molto spesso, ragionando umanamente, mettiamo il nostro cane in condizione di provare stress, ansia e frustrazione. Come? Semplicemente non facendogli comprendere cosa vogliamo da lui. Usciamo da casa e troviamo il divano mangiato, guardiamo la tv e ci accorgiamo che il nostro cane ha rubato un pezzo di carne a scongelare. Umanamente ci arrabbiamo. Ma pensate un attimo, il nostro cane è chiamato a vivere in un modo che non è proprio il suo. E ci aspettiamo che da solo sappia come comportarsi. Aspetta, per caso i nostri genitori lo facevano con noi? Beh, no. Non ci lasciavano arrampicare su tutti i mobili e non ci lasciavano mai insorvegliati. Forse ci mettevano nei box quando non potevano badare a noi? Beh, non è forse questo un kennel o un recintino? Non ha forse solo un aspetto più gradevole alla vista umana? Lasciatemi entrare un secondo nel dettaglio. Beh, questo strumento insegna al cane che c'è un tempo e un luogo per giocare e uno per essere calmi e rilassati. Infatti, per alcuni cani energetici che ci sono nelle nostre case, beh, per la vita che vivono hanno bisogno che gli venga insegnata la calma, altrimenti quell'energia inespressa finirà in frustrazione e quindi in abbagli eccessivi saltare sulle porte, eccetera. Ma ancora, perché è fondamentale gestire gli spazi? Non posso fare a meno di riferirmi ad un branco di cani randaggi. Nel gruppo, uno di essi, il leader, gestisce l'attività dei tutti. Perché? Perché questo garantisce efficienza e quindi sopravvivenza. Gestendo i suoi spazi, ai suoi occhi, apparirà in la sua guida calma e coerente, che ha il controllo della situazione, sa cosa succede e quindi protegge con la sua leadership. Punto 2. Interazioni. Come credete che si costruisca un rapporto tra due persone? Beh, sulla base di interazioni. Lo stesso avviene per il cane. Costrui un rapporto con lui è come costruire una torre fatta di mattoncini. Se l'interazione è positiva, allora il mattoncino è forte ed è in grado di sostenere il peso della torre in altezza. Ma se invece l'interazione è negativa, il mattoncino è debole e non sarà capace di costruire quella relazione fantastica a cui tutti noi asperiamo. Cosa intendo perciò? Beh, interazione positiva è tale se il cane comprende ciò che fai e se ciò che fai mostra coerenza. Ancora, vi chiedo uno sforzo di immaginazione. Immaginate che il vostro datore di lavoro è il vostro insegnante. Un giorno venisse vestito da Batman e iniziasse con voi a parlare arabo, pretendendo da voi che lo capiate. E questo genererebbe incomprensione in voi e quindi mancanza di fiducia. Eseguireste ancora le sue indicazioni. Non è semplice sempre essere perfettamente coerenti e alle volte educare un cane può diventare un po' stressante. Ma ecco che il nostro amico Kennel ci viene in aiuto perché ci salva da quelle interazioni negative che rovinano la nostra relazione. Ora veniamo all'ultimo punto, sicurezza. Le nostre case non sono sicure per i nostri cani, così come non lo sono per dei bambini di due anni. Lasciare i nostri cani liberi di gironsolari per casa, specialmente in nostra assenza, può essere pericoloso. Lo sanno i veterinari e lo sanno i portafogli di tutti coloro che sono costretti a sopportare che i loro cani puntualmente mangiano un pezzo di divano, risicchiano mobili, eccetera. Beh, non dovete convivere con questo problema. Esiste una soluzione. Il recentino o il Kennel. E ci sono un milione di ragioni ancora per cui educare il cane al recentino è fondamentale. Magari faremo un intero video dedicato a questo. Oh, se hai qualche domanda scrivila nei commenti. A noi fa piacere rispondervi e cercare di fare da tramite tra voi e il vostro amico a quattro zampe. Passiamo ora agli strumenti di cui avete bisogno per creare un'associazione positiva. Per tutti gli oggetti che vi consiglio vi lascio il link in descrizione qui sotto. Ovviamente avrete bisogno di un Kennel. Io consiglio un Kennel in metallo, come quello che vi sto mostrando perché è più sicuro. Starei invece lontano da quelli morbidi e quelli invece di plastica possono andare bene. Nella descrizione vi lascio il link anche per il recentino. Ma tra il recentino e il Kennel consiglio maggiormente il secondo perché riproduce meglio l'ambiente di una tana e inoltre è molto più sicuro. Quanto deve essere grande? Deve essere tale da dare abbastanza spazio al vostro cane per alzarsi in modo che si possa riaccomodare. Se avete un cucciolo non vi consiglio di comprare il Kennel ogni settimana dal momento che i cuccioli crescono in continuazione. Ma potete invece comprare dei divisori o in ogni caso non è un grosso problema se il vostro cucciolo crescerà in una tana che mantiene le stesse dimensioni. Ora passiamo agli strumenti che renderanno il Kennel un luogo confortevole. Per prima cosa avete bisogno di una coperta o di una cuccia. Io uso una coperta in pile abbastanza spessa che ripiegata su se stessa diventa una cuccia che è più facile da trasportare quando viaggio. Sono rimasta invece positivamente colpita da un peluche che a prima vista mi sembrava un peluche come tanti. Ma invece questo contiene un cuore al suo interno che pulsa riproducendo il battito del cuore. E lo trovo di grande utilità sia per i cuccioli sia per quei cani che soffrono un po' quando il proprietario lascia la casa. Adesso passiamo alle ricompense che ho diviso in tre categorie. In primo luogo vi serviranno delle crocchette che saranno il primo livello di ricompensa. Il secondo sarà un osso o qualcosa che gli piace da masticare. E infine il terzo livello di ricompensa è occupato da una ricompensa che lo fa assolutamente impazzire. Può essere ad esempio un cong riempito con della carne o del patè che avete precedentemente surgelato. Insomma trovate un masticativo che lo faccia impazzire. Il mio border collie per esempio impazziva per un osso fatto di latte di yak. Ogni cane ha la propria ricompensa preferita quindi vi consiglio di capire quale sia quella più efficace per lui. Ora passiamo a come creare questa associazione positiva. Il primo passaggio consiste nel gioco del lancio delle crocchette. In questa fase lasciate sempre la porticina aperta e lanciate delle crocchette dentro al kennel prima vicino alla porta e man mano sempre più lontano. Regolatevi in base al cane utilizzando il buon senso. Capirete che l'esercizio sta andando a segno se il cane entra senza timore ed esce in modo sicuro senza essere spaventato. Ci sono alcuni cani che entrano da soli e cani che invece impiegano più tempo. Fatelo in modo divertente ma anche calmo e rilassato. Non vogliamo creare un'associazione di eccitazione eccessiva. Quando avrete capito che il vostro cane è tranquillo e confortevole a entrare e uscire potete passare al secondo livello. Fate vedere al vostro cane che avete un mano in un osso e lasciate che entri nel kennel e prenda l'osso una volta che è entrato. Lasciate che lo mastichi dentro ma se lo porta fuori toglietelilo e rimettete l'osso dentro. Fate in modo che comprenda che è libero di masticarlo ma solo dentro al kennel. Ricordatevi di evitare di parlare al cane. Non vi capirà e lo confonderete. Fate invece tutto in modo calmo e silenzioso. Passiamo ora al terzo livello di ricompensa. Questa è la fase in cui chiuderete la porta e vi allontanerete. Mettete dentro il massimo livello di ricompensa e quindi chiudete la porta in modo calmo e rilassato e lasciate la stanza. Cominciate con un tempo di 15 secondi e man mano incrementate secondo la tabella che vi mostro. Sulla destra c'è il tempo, mentre 1, 2 e 3 sono il numero di prove che farete. Quando il vostro cane sarà stato tranquillo per tutta la durata del tempo allora entrate in modo calmo in sala e togliete l'osso. Vogliamo costruire l'associazione secondo la quale il cane crede ok quando il mio amato umano va via posso essere lasciato in pace a masticare questa cosa fantastica invece quando torna questa cosa sparisce. In questo modo associerà alla vostra uscita da casa un evento piacevole ed eviterete in primo luogo che possa soffrire di ansia da separazione o non sappia come agire quando voi non siete in casa. Vi consiglio di utilizzare i tempi che vi ho scritto qui ma se vedete che il vostro cane fa fatica a mantenervi lì allora utilizzate i tempi di incremento più breve. Se il cane comincia a piangere prima del tempo prestabilito allora in questo caso dovrete lasciarlo piangere fino a quando uno smette. Qui infatti è dove sbaglia la maggior parte delle persone. So benissimo quanto spezzi il cuore il fatto che il vostro cane pianga ma i cani imparano per associazione ed entrando gli insegnerete che piangendo voi arrivate e il kennel si apre quindi state facendo un torto sia a lui che a voi. Invece se vedete che il vostro cane ce la fa senza nessun problema non affrettate il processo e mantenete comunque queste tempistiche ricordate che per insegnare la pazienza è un must e ripaga sempre prima che ve ne accorgiate avrete un cane che riesce a rimanere tranquillo rilassato e appagato nel suo recentino nel kennel per tutto il tempo necessario per esempio mentre voi siete al lavoro. Ripetete questo processo due o tre volte al giorno e vedete che la costanza vi ripagherà. Spero che questo video ti sia stato utile se sì allora non dimenticarti di iscriverti al canale al prossimo video